Fui chiamato a far parte della giuria del Festival di Cannes nel 1994, giuria preseduta da Clint Eastwood, vicepresidente Catherine Deneuve. Trovandomi di fronte a un film francese di Patrice Chereau, che era la Reine Margot, che aveva per protagonista La Jeannie e per coprotagonista Virna Lisi, convinse in pratica i giurati che la protagonista reale del film, quella più efficace, quella più straordinaria, quella che aveva fatto di sé anche una delle attrici più belle del mondo, si era ridotto a fare questa Caterina, anziana, sciupata, magrita, scarnificata, convincendoli ad assegnarle la Palma d'Oro come migliore interprete. Andai a casa e la trovai che stava facendo una valigia, e ho detto mamma dove vai, perché l'avevo vista la mattina e non mi aveva detto niente. Sono partita di corsa, mi hanno telefonato a mezzogiorno, alla una avevo l'aereo, per cui ti puoi immaginare, poi ho saputo che l'aereo l'aveva aspettato, perché io naturalmente l'avrei persa. Mamma non se l'aspettava che la premiassero, infatti quando stavamo lì stava molto rilassata, tranquilla, e quando a un certo punto abbiamo visto, dice, il premio va, abbiamo visto tutti i riflettori che ci puntavano addosso, è stato un momento di grande commozione per lei, ma anche di grande festa per il nostro cinema. Quella commozione, da dove nasceva? Nasceva da un'enorme paura forse, non lo so, da 35 anni di lavoro alle spalle, duro, massacrante, dove ho dato sempre me stessa, non lo so, ero un insieme di cose, che il momento in cui ho sentito il mio nome devo dire che ho detto non è possibile, mi sono sbagliata, e poi invece avevo mio figlio vicino che mi ha detto, ma guarda che hanno fatto il nome tuo, hanno detto Virnalisi. Viralisi